E questo è il gommone, la piccolissima imbarcazione con cui i nove clandestini stamattina sono stati avvistati al largo del mare di Sciacca, nel mare antistante Renella. Siamo al porto dove si sono appena concluse le operazioni di sbarco dei clandestini, operazioni che hanno seguito gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri di Sciacca. Libici e Tunisini, questa la nazionalità che hanno dichiarato al momento dello sbarco. I nove clandestini, tutti uomini, avevano lanciato l'SOS ieri sera. La chiamata era giunta al centrino dei carabinieri di Mazzara del Vallo. Carabinieri che hanno subito avviato le procedure per il soccorso allertando le Capitanerie di Porto di Mazzara e Sciacca. Le ricerche nella notte non avevano dato alcun seguito ed erano comunque proseguite fino a stamattina, quando della piccola imbarcazione a largo di Sciacca a Renella si è accorto un magnante. Gli uomini della Guardia Costiera di Sciacca a bordo della motovedetta hanno raggiunto il gommone a due miglia dalla costa e soccorso i nove, alcuni molto provati dal viaggio in mare. Giunti al porto di Sciacca a bordo della motovedetta, per tre di loro si è reso necessario, a causa delle difficili condizioni di salute, il trasferimento all'ospedale. Per gli altri, dopo le operazioni di sbarco, adesso si apriranno le procedure di identificazione, il trasferimento nei centri di accoglienza e poi eventualmente l'iter per l'espulsione. Uno sbarco l'ennesimo di questi giorni sulle coste siciliane di un'estate che si annuncia calda sotto il profilo dell'immigrazione, con gli uomini della Guardia Costiera e le forze dell'ordine quotidianamente impegnati in operazioni di soccorso in mare. Operazioni che in questo caso hanno interessato Sciacca, che si conferma a meta di clandestini a bordo di piccole e silenziose imbarcazioni.